C'è una città seminascosta tutta da scoprire, con angoli interessanti che sfuggono alla curiosità della gente. C'è un angolo dentro al complesso del Collegio dei Gesuiti che merita una visita. Dentro il complesso monumentale sono stati allestiti alcuni piccoli spazi museali fra i quali emerge quello dedicato a Gaspare Formusa, gioiegliere, orafo e artista dell'argento. Gaspare Formusa ha lasciato in eredità ad un'operapia assorbita dal comune di Mazzara del Vallo un importante patrimonio, testimonianza della sua passione e della sua lunga attività lavorativa. Argenti e pietre preziose si intrecciano dentro vetrine e superfici murali. Formusa amava Mazzara del Vallo ed ha vissuto anche a Palermo e Milano. In queste città ha realizzato piccoli capolavori che oggi si possono ammirare ogni giorno nel Collegio dei Gesuiti. Formusa era innamorato anche della città di Venezia e perciò era anche collezionista di opere d'arte che raffigurano la stessa città lagunare. Dentro la saletta dedicata all'ora fumazzarese è stato ricreato un piccolo ambiente con il sapore della propria casa. È possibile visitare lo spazio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 e 30 alle ore 19 di ogni giorno.